Musica Benvenuti a TeleCRU, notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. L'Aula di Palazzo Cesaroni ha approvato a maggioranza la programmazione degli interventi per la sicurezza dei cittadini. L'Assemblea Legislativa dell'Umbria ha approvato, con 13 voti favorevoli del Partito Democratico, Socialisti e il Consigliere Ricci, due contrari del Movimento 5 Stelle e quattro astenuti, Lega Nord, Forza Italia e Fratelli d'Italia e il Consigliere De Vincenzi, la proposta della Giunta sulle integrazioni della delibera di programmazione 2015-2016 in materia di interventi per la sicurezza dei cittadini. Illustrando l'atto in aula, il relatore di maggioranza Andrea Smacchi ha ricordato che la Regione ha promosso in questi anni programmi di finanziamento per il sostegno ai comuni nell'attuazione di politiche di sicurezza. Nel 2015-2016 sono stati individuati, come strumenti privilegiati, i patti per la sicurezza urbana. Nel 2015 sono stati destinati 83.000 euro alla Comune di Perugia e 56.000 a Terni. Per il 2016 la Regione ha stanziato 187.000 euro, di cui 140.000 per progetti volti a migliorare la sicurezza nelle zone industriali di Perugia e Terni, con impianti di videosorveglianza ad alto contenuto tecnologico. Nel 2017 la Regione continuerà a finanziare progetti di videosorveglianza con 170.000 euro, essendendo l'opportunità alle aree industriali degli altri comuni umbri. La Regione rafforza con progetti e risorse concrete il proprio impegno per le politiche di sicurezza urbana, sperimentando un modello collaborativo fra i vari livelli istituzionali. Nel corso della discussione, Claudio Ricci, della lista Ricci Presidente, ha rilevato la necessità di aggiornare la legge 13 del 2008 in un quadro di semplificazione normativa. Per Andrea Liberati, del Movimento 5 Stelle, si continua con finanziamenti a pioggia e ci si va a sovrapporre con altri enti. Secondo Valerio Mancini, della Lega Nord, serve coerenza, idea unica di sicurezza, ottimizzare le risorse e armare le polizie municipali. Secondo Emanuele Fiorini, sempre della Lega Nord, serve un programma per investire in sicurezza, ma deve essere, a detto, efficiente e funzionale. Eros Brega ha sottolineato che sono stati fatti passi in avanti sulla sicurezza in un momento di grave difficoltà di risorse. L'assessore Fabio Paparelli, infine, ha sottolineato come il 75% delle risorse investite in questi anni sono fondi regionali ed ha annunciato che a breve verrà portato in aula l'aggiornamento della legge. L'Assemblea legislativa dell'Umbria ha approvato all'unanimità l'istituzione dell'osservatorio sulla criminalità organizzata e l'illegalità proposta dalla Commissione d'inchiesta, analisi e studi su criminalità organizzata, infiltrazioni mafiose, tossicodipendenze, sicurezza e qualità della vita. Si tratta di uno strumento di supporto alla Regione per il contrasto dei fenomeni di infiltrazione della criminalità organizzata. Ne faranno parte Presidente e Vicepresidente della Commissione d'inchiesta, un rappresentante dell'Anci, sette esperti delle tematiche della legalità, Libera Umbria, Libera Informazione, Legambiente, SOS Impresa, Cittadinanza Attiva, Mente Glocale, WWF. Quindi un rappresentante dei sindacati, tre rappresentanti delle imprese e delle cooperative, un rappresentante dell'Associazione Bancaria Umbra. E l'Aula di Palazzo Cesaroni ha preso atto della relazione per l'anno 2015 sull'attuazione del testo unico in materia di turismo e i risultati conseguiti. L'Assemblea Legislativa ha preso atto della relazione per l'anno 2015 circa l'attuazione della legge 13 del 2013, il testo unico del turismo e i risultati conseguiti. Il documento viene redatto annualmente dalla Giunta in adempimento alla clausola valutativa. I dati contenuti nel documento riguardano i finanziamenti da parte delle province a favore dei titolari o gestori di imprese turistiche singole associate al fine del miglioramento delle caratteristiche delle strutture ricettive e al loro adeguamento rispetto ai requisiti previsti dalla legge. È emerso che nel corso degli anni le domande per usufruire di questo tipo di finanziamento sono sempre risultate piuttosto esigue, fino ad arrivare alla 2015, in cui sono risultate pari a zero. Il numero di domande di finanziamento e ammesse a contributo pervenuto alle province nel periodo 2007-2015 per la provincia di Terni sono in totale 5, mentre 32 sono per la provincia di Perugia. Risultano aver beneficiato di tali finanziamenti poco più di 4 in media ogni anno. In merito agli esiti delle attività di controllo e monitoraggio svolte dai comuni sulle agenzie di viaggio e turismo e le professioni turistiche risulta che i 43 comuni non hanno inviato alcuna risposta alla regione. Nel 2015 sono stati effettuati 377 controlli, di cui 347 su strutture ricettive e 30 su agenzie di viaggio e turismo. Nessun controllo ha riguardato invece le professioni di guida turistica o di accompagnatore turistico. Sono scaturiti 29 provvedimenti, rilevato un solo caso di attività abusiva. Per quanto riguarda i contributi alle associazioni Proloco, nel 2015 sono state ammesse a contributo e liquidate 64 associazioni più lumpli per un importo complessivo di 40.000 euro, vincolati allo svolgimento di attività di interesse turistico. Dagli interventi è emersa la necessità di un maggiore dialogo e confronto tra regione e comuni in fatto di controllo e per la programmazione turistica. Il consigliere Claudio Ricci, della lista Ricci Presidente, dopo aver evidenziato una flessione nel 2015 del 2,23% della presenza media nel territorio, ha auspicato che in fase di programmazione bisogna attentamente considerare il rapporto turismo-sisma, studiando bene il modo con il quale intervenire. Per Raffaele Nevi di Forza Italia, l'industria turistica Umbria è ai minimi storici e quelli della programmazione turistica regionale, ha detto, sono stati anni di fallimento. E se Gianfranco Chiacchieroni, del Partito Democratico, ha invitato la Giunta a sperimentare nuove forme di coinvolgimento nazionale ed europeo nel lavoro di recupero post-sisma e per la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale, Andrea Liberati, del Movimento 5 Stelle, ha sottolineato la necessità e l'urgenza del recupero del danno indiretto procurato dal sisma. Per il consigliere Pentastellato andrebbe implementato un approccio interdisciplinare sull'argomento, non possiamo vedere il turismo, ha detto, in maniera autonoma, ma legarlo con urbanistica e trasporti. Giacomo Leonelli, del Partito Democratico, ha invitato tutti a fare uno sforzo comune, maggioranza e opposizione, sul tema del danno indiretto, perché ha puntualizzato non basta soltanto ricostruire. Infine, Valerio Mancini, della Lega Nord, dopo aver definito sbagliato il messaggio mediatico sugli effetti del terremoto in Umbria, ha rimarcato la necessità di una interlocuzione forte con l'Europa da parte delle quattro regioni colpite dal sisma. Approvato a maggioranza, con 13 voti favorevoli e l'astenzione dei consiglieri di opposizione, il piano regionale dell'offerta formativa e della programmazione della rete scolastica in Umbria per l'anno 2017-2018. I licei scientifici di Assisi e Foligno non avranno, per ora, le opzioni per la lingua cinese e inglese, in mancanza di accordi internazionali con i relativi ministeri cinese e britannico e, dietro parere negativo, anche dell'ufficio scolastico regionale. Non accolta neanche la richiesta del liceo classico Folignate-Frezzi di istituire una sezione dedicata al liceo musicale. Per la provincia di Terni non sono state accolte le richieste dell'Istituto Omnicomprensivo Pertini, attualmente collocato presso l'Istituto Cappelletti, di spostare la sede di erogazione di offerta formativa dal centro di Allerona a quello dell'Istituto di istruzione superiore artistica classica di Orvieto e quella dell'Istituto Casa Grande Cesi di Terni di istituire l'indirizzo enogastronomico e alberghiero presso la casa circondariale di Terni. Non in linea con quanto previsto dal 2014. Per quanto riguarda la programmazione della rete scolastica per l'anno 2017-2018, sono state accolte le richieste dei comuni di Panicale, Piegaro e Paciano di accorparsi in un unico polo e quella del comune di Città di Castello di unificare gli organici dei docenti dell'Istituto Franchetti Salviani. Accolta anche la richiesta del comune di Terni di chiudere la sezione di scuola dell'infanzia di Maratta e di collocare gli alunni presso la sede di Borgo Rivo dello stesso Istituto Giovanni XXIII. In aula le opposizioni hanno rimarcato il fatto che il piano è arrivato tardi in commissione, non c'è stato tempo adeguato per approfondire. L'assessore Bartolini si è però dimostrato favorevole alla proposta, partita dal consigliere De Vincenzi, di realizzare in futuro una conferenza sulla scuola con tutti gli attori interessati. L'Assemblea legislativa ha preso atto del rapporto sull'attività della consigliera di parità relativo al bienio 2014-2015. Il rapporto della consigliera regionale di parità Elena Tiracorrendo è stato illustrato in aula dal presidente della terza commissione Attilio Solinas, evidenziata la mancanza di strumenti e risorse e il depotenziamento di fatto della figura della consigliera di parità conseguente al decreto legislativo 151 del 2015 che ne ha modificato il ruolo e le modalità di finanziamento degli uffici. Quindi la persistenza di situazioni di discriminazione nel mondo del lavoro, soprattutto nel periodo di maternità, rilevata anche l'esigenza di dare vita all'osservatorio regionale sul mobbing, previsto dalla legge 18 del 2005. Solinas ha ricordato che su quanto emerso dal rapporto della consigliera ha predisposto una proposta di risoluzione poi approvata dall'Aula che tiene conto delle indicazioni ricevute, in particolare della mancata istituzione dell'osservatorio sul mobbing, individuato dall'Assemblea legislativa come organismo indispensabile per la realizzazione dei fini istituzionali dell'amministrazione. In seconda commissione audizione sul disegno di legge della Giunta concernente la legislazione turistica regionale. Dopo gli eventi sismici espressa la necessità del riconoscimento dei danni indiretti. Necessaria una maggiore partecipazione dei comuni nella programmazione turistica regionale, puntando alla messa a punto di strategie condivise e tenendo in alta considerazione la specificità dei territori. I primi ad interfacciarsi con gli operatori del turismo sono i comuni, per questo sarebbe auspicabile dar vita a una regia regionale che studi ed imposti azioni promozionali condivise. Sono le indicazioni e le riflessioni emerse a Palazzo Cesaroni nel corso di un'audizione in seconda commissione dei sindaci dei comuni dell'Umbria che hanno risposto all'invito della Presidente Brega nell'ambito della discussione sul disegno di legge della Giunta regionale relativo alla legislazione turistica regionale. Nell'audizione, che fa seguito a quella con le associazioni di categoria ed operatori del settore, sono intervenuti Maria Teresa Severini, assessore al Comune di Perugia, Giovanni Patriarchi, assessore al Comune di Foligno, Riccardo Carletti, assessore al Comune di Città di Castello, Stefania Moccoli, assessore del Comune di Trevi. Tutti hanno sostanzialmente ribadito la necessità di un maggiore coinvolgimento dei comuni nei piani turistici regionali. Altri rappresentanti istituzionali presenti, come hanno già fatto altre amministrazioni comunali, hanno annunciato la presentazione di documenti scritti con osservazioni e proposte emendative al testo. Il Presidente Brega ha tuttavia auspicato un maggiore approfondimento dell'articolato all'interno dell'Anci, rimanendo dunque in attesa, entro 15 giorni, di un documento sul quale la Commissione aprirà approfondite valutazioni. Nella sala Brugnoli di Palazzo Cesaroni si è svolta l'audizione dei rappresentanti di enti e società sportive sul disegno di legge modificazioni e integrazioni della legge 19 del 2009, norme per la promozione e lo sviluppo delle attività sportive, motorie e ricreative. Un disegno di legge ed iniziativa dei consiglieri regionali Solinas, Casciari, Chiacchieroni del PD, Ricci del gruppo Ricci Presidente e Rometti Socialisti. I numerosi rappresentanti di enti e società sportive presenti in audizione hanno rivolto ai membri della Commissione presieduta da Tilio Solinas diversi suggerimenti per la stesura del testo definitivo, fra cui la pari dignità nell'assegnazione di risorse per il Comitato Italiano Paralimpico, attualmente il 15%, ma si vuole il 50%, favorire l'accesso delle persone disabili nelle strutture pubbliche, potenziare quelle dedicate all'attività sportiva e recuperare l'agibilità degli spazi pubblici. A partire dal palazzetto dello sport di Viale Pellini a Perugia e dalle molte piste di atletica attualmente inagibili come quelle di Gualdo, Gubbio, Città di Castello e Castiglion del Lago, mentre Perugia e Terni ne sono addirittura al momento prive. Chiesto a gran voce il ripristino della Conferenza Regionale dello Sport per confrontarsi e provvedere a colmare le lacune esistenti. C'è anche chi ha proposto di normare la figura dell'istruttore tecnico per quelle discipline che non appartengono alla formazione di laureati all'ICEF o in scienze motorie, ad esempio alcune arti marziali come il Judo. In questi casi il tecnico diventa punto di riferimento per chi fa sport e diviene necessario fare attenzione alle qualifiche ottenute, spesso con corsi che vanno dal mambo al Kung Fu, è stato detto. Il presidente della Commissione, Attilio Solinas, ha ringraziato i presenti per i contributi forniti e li ha invitati a consegnare memorie scritte per integrare al meglio il disegno di legge di iniziativa consigliare. In terza commissione la consigliera regionale del Partito Democratico, Carla Casciari, ha presentato una proposta di modifica della legge di contrasto alla ludopatia, al gioco d'azzardo. L'intento è quello di fornire alle amministrazioni locali ulteriori strumenti per fronteggiare con tempestività e certezza i rischi provenienti dal proliferare anche sul territorio regionale di luoghi dediti ad attività riconducibili al gioco d'azzardo, mirando a introdurre l'equiparazione tra le sale da gioco e le sale scommesse, sottoponendo anche questi ultimi ai limiti previsti relativamente alla distanza da punti sensibili come scuole, centri di aggregazione giovanili e luoghi di culto. A questa proposta si aggiunge un contributo del consigliere del Partito Democratico, Andrea Smacchi, riguardante un ulteriore deterrente al proliferare delle scommesse, vale a dire la possibilità di proibire il gioco d'azzardo in determinate fasce orarie, visto l'incremento dello stesso fra le 7.30 e le 9.30, quindi fra le 12 e le 14 e fra le 19 e le 21. Secondo i dati più recenti forniti dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Umbria, il gioco d'azzardo capitalizza 1 miliardo e 29 milioni di euro l'anno. Il Comitato di Monitoraggio sull'Amministrazione regionale preseduto da Raffaele Nevi si è riunito per ascoltare in audizione l'amministratore unico di Umbria Digitale, Stefano Bigaroni. Il Comitato per il Monitoraggio e la Vigilanza sull'Amministrazione regionale preseduto da Raffaele Nevi ha ascoltato in audizione l'amministratore unico di Umbria Digitale, Stefano Bigaroni. Bigaroni ha ricordato che in Umbria ci sono oltre 600 chilometri di fibra ottica. Il piano della banda ultralarga prevede per la nostra regione 56 milioni di euro. L'obiettivo è di coprire l'80% dei cittadini umbri con una connettività a 100 megabytes e il 100% a 30 megabytes. La gara è già partita e la regione con l'attuazione di questo piano darà la priorità a partire dalle aree industriali nelle zone a fallimento di mercato. Il ruolo pubblico nell'ICT permette ai cittadini, ha detto, di scegliere il meglio al minor prezzo. Sollecitato dalle domande dei commissari, Bigaroni ha detto che Umbria Digitale è pronta a gestire anche i dati e i servizi sanitari delle ASL, ma ci sono resistenze amministrative. Per questo il presidente Nevi ha preso l'impegno di occuparsi della questione sollecitando la Giunta a risolvere il problema. Potremmo, ha detto, anche presentare un atto congiunto di tutto il comitato di vigilanza e monitoraggio per spingere affinché le ASL utilizzino le infrastrutture esistenti di Umbria Digitale perché alla fine conta che ci sia un servizio funzionante per i cittadini. Era l'ultima notizia, è tutto per oggi. Vi ricordo, Tere CRU va in onda sulle emittenti televisive di tutta la Regione, è disponibile anche in rete sul sito dell'Assemblea Legislativa regionale consiglio.regione.umbria.it e su YouTube. Grazie per la vostra attenzione e arrivederci.